Ciao a tutti ragazzi, io sono iPirox e bentornati in un mio video del canale Oggi come vedete ci ritroviamo su FNAF R E tra l'altro c'è questa skin ragazzi che carina ci sta dai Ma comunque, allora, io direi di iniziare ovviamente con i vostri animatroni Ma in questo video volevo sconfiggere ovviamente la nostra cica Perché devo avere la sua cp assolutamente Poi probabilmente proviamo con BigBag, BigQBad Pussy Allora Iniziamo, eccolo qua, un Balloon Boy Inviato da VadimKO E si va Ah ragazzi, inoltre in questi giorni non sto facendo video con Save Life Semplicemente perché No, semplicemente perché non riusciamo a collegarci su Minecraft C'è un bug E dato che non ci vediamo più ultimamente Perché la nostra classe è in quarantena Non riusciamo neanche a collegarci a un'altra vicina Adesso ci calmiamo però Capisco ma è un po' esagerato Non credo anche tu Non credo anche tu caro Balloon Boy che non ho guardato Di chi sia la cp Credo che sia O di un Freddy o di un Nendo Ok, di qua Vai uomo Vai uomo E ok Il palloncino si era un Nendo Se il palloncino me lo dà così era un Nendo Ok No, non Minecraft Ma che cosa c'entra Minecraft Ok Adesso Eccolo lì Un Bonnie Ma prima direi di aspettare che Comunque mi si ricarica l'energia E ok Direi di aver aspettato abbastanza Infatti il Bonnie è sparito Perché mi vuole male Che bello Eccolo là Nascosto Da qualche parte E niente Mi è sparito il bo Beh Allora ragazzi Direi subito di iniziare con una cicaccia Cicacchita Eccoti qua E si va Ok Do'è Oh Adesso però ti calmi Ti calmiamo Che sei una pena Come chute Vai prima E tu hai solito Ah si Brava Doisissima Bravissima Non ti arrabbiare Oh Così Brava No Sei arrabbiata però Non mi piace Perché sei arrabbiata Stavamo tutti così felici Qua Ok Dai Sai Di qua Giusto Dai E vieni Di qua Ecco Rini addosso Ecco 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 Ci vanno Ma Ma No Però Dai Me ne farò una ragione Ma domanda Quanto costa Una sua esche Delle sue esche 300 Ok E si usa Un'altra Le sgole sgole Ma prima Ma prima Si va Ah Proviamo tutta Senza usare Le torcia E qua Peccato preciso Incredibile No Mamma mia Così non me l'aspettavo Ok Ok Di qua Ok Ok Perfetto Dai Dovrebbe essere Circa qua Ecco qua Ragazzi mi è stata All'1% La batteria Com'è possibile Non è reale Tutto Buggato Non era mai successo Boh Che roba strana Ma comunque Oh Ciancunendo Ragazzi Dopo lo sconfiggio Adesso solo Fate A vedere Questa CPU Di cica Adesso aspettiamo Un attimo Che si Carica la batteria E Andiamola A sconfiggere E si va 52% Dai Sì ci sto Ok Ok Qua Oh Calmiamoci Ok Sì ciao Cica Ok Sei tu Era giusto Per essere sicuri Sei tu Ok Qua No Però ci calmiamo Ok Eccoli qua E lo sapevo Quando ti Ma Com'è possibile Che ce l'abbia Non mi fa più Attivare Non ho più batterie Perché mi ha fatto Le batterie No ma ne avevo Cinque Oh Ma io ne ho Cinque Di batteri Dove sono Finite Le cinque Batterie Io le batterie Non le ho Finite No Seri A caso Proprio Ah E là C'è anche Uno sprint Tra un po' Arrabbiare No ragazzi Perché non ho più batterie No scusa Adesso mi arrabbio Perché Ne avevo Cinque Extra Che gioco Adesso Endo tranquillo Sconfondo Giaio Mi è mandato Un freddo Però Alla skin Attenzione Alla skin Di sprint Giaio Se riesco Ad avere Sta skin Ti giuro Che Esplodo Siamo tutti Amici Che bello Dai Sono da sperare In bene Però adesso Mi lascio il diritto Di avere le mie Tre batterie Extra Dai Non ancora Ok Andiamo di qua E fatti vedere Dai Sto aspettando Forza su Dai E si va Allora 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 Potenziatore Buono Un minamento Qualcosa Mi ha dato Qualcosa Mi ha dato Ora Adesso Lendo è sparito Ragazzi Lo sconfiggerò In un altro video Perché sicuramente Ricapita Eccolo qua Sapete una cosa E anche questo Si va Eccolo qua Ok 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 No 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 Così no Ok di qua Dai Eccolo qua Eccolo qua Let's go Let's go Ok Panuncino Perfetto E si va avanti Con la serie Così Perfetto Tutto Ok ragazzi Cioè Oggi ho avuto Il bug Anche delle Allora Adesso però Ci dobbiamo calmare Ragazzi Lo sconfigo Poi in privato O poi Nel caso Farò uno short Se riesco a sconfiggerlo Qualcosa Comunque Grazie a chi Me l'ha inviato E per oggi è tutto Ragazzi Ho avuto Sto sfortuna Delle 5 esche A caso Che mi sono sparite Sì Le esche Delle 5 batterie E Niente Direi che per oggi è tutto Ci vedo Alla prossima volta Con un altro video Ciao